Ciao amico di Facebook! Buon sabato! Anzi, buon sabato dal Belvedere sopra Chiavenna, a Dalò! Conosci il Belvedere di Dalò? No! Impossibile! È un posto stupendo! Meraviglioso! Devi venirci! Oggi a dire il vero è sabato 13 marzo. Ed è il secondo video che registro ad Alò nello stesso giorno, perché è un luogo che mi ha stupito, molto favorevolmente. Quando sono arrivata qui alla croce, ho pensato che meritava un videtto a sé, un buon sabato a sé. Oggi è sabato 13 marzo e siamo in zona arancione, per cui mi è possibile essere qua a registrare in questo video. Ma te lo trasmetterò sabato prossimo, quando siamo in zona rossa. E non mi sarà possibile uscire più dal comune, dal comune di Piuro. E' dato che ormai faccio anche un po' difficoltà a registrare dei buon sabato da Piuro, perché ne ho fatti tanti. Ne approfitto e ti mando questo, diciamo così, indifferente. Però ti invito caldamente a venire qui al Belvedere, perché è una cosa stupenda. Hai una vista su tutta la Val Chiavenna, dalla Val Bregaia alla mia zona, fin giù nella bassa Val Chiavenna. Poi qua sotto Pianazzola e Chiavenna a centro. Una meraviglia veramente. Tra l'altro è in sicurezza, perché l'hanno sistemato in maniera da evitare incidenti di sorta. E c'è questa croce, sistemata qui nel 2010. Di fronte il pizzo torto, il mio preferito, che si affaccia sempre sulla Val Drogo. Dietro di me il pizzo di prada. Questa stupenda skyline. Poi ti mando il vidento e le foto. Ti invito veramente caldamente a venire in questo posto, quando si potrà. Ciao amico di Facebook. Buon sabato dal Belvedere di Dalò. 1.108 metri su livello del mare. Baci, baci, baci. Baci, baci. Baci, baci. Baci, baci. Grazie a tutti.